auto in sosta per la valverto va domenica 10 giugno sarà in servizio per qualche ora una pattuglia di agenti di polizia locale bimbi in bici a clusone con unicef si pensa anche i bimbi dalla siria distribuita una cartina dedicata alla ciclabile della valle seriana cartina tutta da colorare montagna e cultura domenica 17 giugno prendono il vie cammini geopoetici con davide sapienza cammini promossi dal sistema bibliotecario valle seriana buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 la valverto va continua ad attirare numerosi visitatori soprattutto in occasione del fine settimana ieri nella zona urbana di via 5 martiri in molti hanno lasciato l'automobile a margine della strada una situazione che l'amministrazione comunale vuole evitare che ha creato disagio agli abitanti della zona e per cui non sono mancate nemmeno lamentele specialmente sui social network nicola andreoletti ne ha parlato con il primo cittadino di verto va luigi gualdi anche ieri è stata una giornata calda per la valverto va tantissime persone ma anche tante auto in divieto di sosta nelle zone dove non si può parcheggiare ecco come intende affrontare la situazione l'amministrazione comunale allora l'amministrazione comunale ha già affrontato la situazione con un'ordinanza emessa più di un mese fa dove ci premeva soprattutto tutelare la garanzia e la sicurezza nella parte della strada diciamo più pericolose dove si creavano i maggiori imbottigliamenti cioè quindi per chi conosce un po la realtà dall'ex porcilaia dove la strada si restringe e diventa in alcuni punti anche sterrata e devo dire che grazie al controllo anche effettuato dalla protezione civile si è riuscito diciamo a ovviare a questo fenomeno ho visto anch'io ieri che state chiaramente la giornata molto calda c'erano parecchie auto parcheggiate al di fuori dell'area interessata dall'ordinanza comunque su una strada dove non è possibile parcheggiare sicuramente l'amministrazione cioè come intervenuta interverrà anche in futuro c'è già da domenica prossima non era possibile già da ieri per motivi contingenti ci sarà comunque la pattuglia dell'unione sul serio che due ore al giorno presiderà la zona quindi è chiaro un caldo invito a questi indisciplinati che hanno messo le macchine di andare a parcheggiare nei parcheggi perché oltre al pericolo e ai disagi che creano ai residenti sicuramente la settimana prossima corrono il rischio di trovarsi rovinata la gita da una multa salata ovvio che sta arrivando il periodo in cui ci sarà ancora più gente in Valvertova negli anni scorsi avevate messo a disposizione un bus navetta che dai parcheggi del centro portava appunto all'inizio della Valvertova iniziativa che sarà a disposizione anche quest'anno sicuramente iniziativa che viene ripetuta anche quest'anno partirà da domenica 17 giugno fino a domenica 16 settembre cioè quindi la domenica e i festivi in pratica il solo giorno di ferragosto in più dalle 9 del mattino alle 18 ci sarà il bus navetta che partirà dall'ex stazione di Vertova arriverà in valle e farà avanti e indietro a seconda delle esigenze dei visitatori il servizio costa 5 euro andate a ritorno questo per gli adulti mentre invece sarà gratuito per i bambini fino a dieci anni da domenica 17 giugno alle 9 ci saranno il parcheggio presso l'estazione c'è il parcheggio qui sotto si può chiedere a diciamo agli addetti che sono lì presso l'info point anche il parcheggio qui sotto il comune c'è il parcheggio presso l'ex deposito della stazione quindi è chiaro che un caldo invito a utilizzare i parcheggi a utilizzare il pulmino e a evitare di andare a intasare la strada il biglietto sarà possibile acquistarlo presso l'info point che verrà aperto appunto in concomitanza con la domenica di giugno e gestito dal comune di Vertova in collaborazione con Promoserio. Nell'ultima seduta di consiglio comunale avete anche stanziato delle risorse per uno studio di fruibilità ambientale della Valle Vertova ecco quali sono gli obiettivi. Esatto abbiamo stanziato comunque delle risorse perché riteniamo fondamentale importante fare uno studio sul possibile diciamo utilizzo e tutela dalle della Valle Vertova ai fini turistici sarà nei prossimi giorni dato l'incarico un gruppo chiamiamolo così di studiosi che comunque conoscono bene la materia hanno avuto altre esperienze hanno contribuito alla gestione alla scrittura del piano di governo del territorio proprio perché vogliamo comunque fare delle linee guida per poter indirizzare anche le attività economiche le attività turistiche che potrebbero scegliere sul territorio. Chiaramente verranno interpellate le associazioni, gli operatori che già operano sulla zona piuttosto che per poter fare un piano che sia il più possibile coerente con la tutela della Valle Vertova. E in Val Vertova in merito a questa situazione c'è chi si dice disponibile a mettere a disposizione una propria area. Gloriano Taccon è il proprietario dell'area della Baita Rosè in Val Vertova, posto molto conosciuto. Sappiamo i problemi che ci sono in questo periodo in Val Vertova con i parcheggi soprattutto la domenica nei giorni di festa. Qui proprio alle sue spalle c'è un'area piuttosto ampia che mettereste volentieri a disposizione come parcheggio ma non è possibile. Perché? Il Comune ha deciso di risolvere il problema del traffico chiudendo la strada. Ovviamente il traffico va regolato perché la Valle non permette l'accesso a molte auto, però è anche vero che Vertova non ha parcheggi e quindi hanno creato i problemi a valle. Probabilmente sarebbe opportuno, sarebbe interessante fare utilizzare ai turisti sia questo spazio e poi altri spazi che ci sono qua a Monte. C'è un parcheggio comunale di 50 auto e c'è un terreno il cui proprietario metterebbe a disposizione e sarebbero altri 150 posti auto. Per cui diciamo che volendo potremmo avere 300 posti auto e questo sgraverebbe Vertova. D'altra parte possiamo anche dire che Val Vertova è una delle zone, è uno degli itinerari più belli della Lombardia e quindi bloccare i turisti penso che sia difficile. Comunque secondo me non ha senso perché l'Italia dovrebbe vivere sul turismo, insomma il turismo è un'industria fondamentale per l'Italia. Val Vertova potrebbe essere un posto, un'industria che dà lavoro e che dà ricchezza a Vertova, a Gazzaniga e a Fiorano. Questo spazio precedentemente veniva utilizzato? Sì, questo spazio è sempre stato utilizzato negli anni passati, è anche stato utilizzato lo scorso anno e appunto quest'anno non viene utilizzato perché appunto è stato bloccato il traffico. Mi diceva che la settimana scorsa ha chiesto una deroga al comune. Sì, infatti l'ordinanza prevede una deroga per le attività economiche e quindi ho avviato una PEC al sindaco chiedendo una deroga per poter far arrivare i clienti qua ma ad ora non ho avuto nessuna risposta, speriamo di sapere qualcosa. Devo anche dire che nei giorni ieri, domenica, due clienti hanno detto che avevano prenotato qua per pranzo e sono stati fatti passare. Però purtroppo non esiste, come dire, non esiste una regola. Io stesso mi sento in difficoltà a dire ai clienti venite e dite che avete prenotato perché non... preferisco... insomma le cose dovrebbero essere chiare, dovrebbero essere delle regole e tutti seguiamo le regole. E a proposito di parcheggi, questa mattina sulla sbarra del parcheggio sotto piazza Manzù a Clusone è stato posto un cartello con la scritta chiuso. Semmaforo rosso quindi per gli automobilisti che nelle giorni di mercato eppure con la pioggia oggi non potendo accedere all'area coperta hanno dovuto mettere la retromarcia. Il comune è lavoro per ottenere la riapertura. Già nel settembre 2017 l'amministrazione comunale aveva dichiarato di essere disposta a dialogare con la controparte per il mantenimento del servizio. Ricordiamo che sul parcheggio pende una situazione fallimentare. Dialoghiamo con tutti soprattutto quando abbiamo buone ragioni, commenta il primo cittadino di Clusone Paolo Lini. Secondo l'amministrazione comunale il parcheggio rientra negli standard della convenzione che ha portato alla riqualificazione dell'ex Angelo Mai e l'area coperta in questione avrebbe le caratteristiche di parcheggio privato a uso pubblico e quindi si tratterebbe di uno standard a favore della comunità di Clusone e che quindi dovrebbe restare accessibile. Domani si riunirà la giunta comunale di Clusone che deciderà la linea da adottare. E sono più di 300 le persone che ieri hanno approfittato delle visite gratuite della quinta edizione di Viviamo Clusone, iniziativa promossa dai ragazzi della consulta dei giovani di Clusone. La Viviamo Clusone è giunta alla quinta edizione. Esatto, fortunatamente in questo anno 2018 siamo riusciti ad arrivare alla quinta edizione della Viviamo Clusone, una manifestazione a sfondo culturale appunto che permette ai turisti e ai clusonesi di visitare parti del nostro paese che solitamente o non vengono aperte perché sono private oppure non ci prendiamo il tempo di fermarci a osservarle più nello specifico. Per realizzare le visite ci aiutano i nostri volontari e personaggi all'interno della comunità clusonese. E la consulta dei giovani come sta andando? La consulta dei giovani come sempre a gonfie vele. L'invito ai ragazzi dai 16 ai 32 anni di unirsi alla nostra associazione è sempre ben accetto. Potete scriverci su Facebook oppure su tutti i nostri social. È un'ottima occasione per poter fare qualcosa per il nostro territorio, per il nostro paese e anche per potersi divertire assieme. Quindi come sempre l'invito è rivolto a tutti. Come consulta siamo anche impegnati nell'organizzazione di un ciclo di eventi che si chiama Mi Racconto. Il prossimo in calendario è il signor Maurizio Albergoni il 7 giugno che ci racconterà della sua esperienza della Sala Legrenza alle ore 20 e 45 e dei suoi differenti cammini sul sentiero di Santiago di Compostela. Sono ottime occasioni per condividere esperienze che un giovane in futuro potrebbe decidere di emulare per venire poi a raccontarlo da noi nella prossima edizione di Mi Racconto. E nella giornata mondiale della bicicletta, ieri mattina a Clusone partendo da Piazza Manzù si è tenuta la Bim Bim Bici, città di Clusone promossa dall'associazione Arabi FIAB Bergamo, associazione per il rilancio della bicicletta e in collaborazione con Turismo Pro Clusone. Ecco ma che cos'è la Bim Bim Bici? Allora la Bim Bim Bici è giunta alla sua 19esima edizione ed è una manifestazione per famiglie che pedalano lungo la valle in percorsi prevalentemente sicuri in tutta Italia. Oggi in particolare è la giornata mondiale della bicicletta quindi ci stiamo dilettando a percorrere la valle seriana nei tratti meravigliosi della sua pista ciclabile. Date anche a tutti i bimbi un materiale informativo particolarmente interessante. Quest'anno siamo veramente orgogliosi del fatto di poter consegnare ai bambini una mappa della ciclabile della valle seriana, di tutta la pista ciclabile della valle seriana, realizzata grazie a preziosi sponsor. È una mappa uso-mano che i bambini potranno colorare a seconda dei comuni che percorrono di questa lunga pista ciclabile meravigliosa. La mappa è tradotta in due lingue, è tradotta in inglese quindi è bilingue e tiene conto anche delle diverse etnie dei bambini ed è studiata in ogni minimo particolare per essere un dono prezioso per loro. Main sponsor l'UNICEF? Sì, quest'anno main sponsor UNICEF a Clusone. Perché l'UNICEF appoggia un'iniziativa come questa? Allora innanzitutto l'UNICEF, dove ci sono i bambini c'è l'UNICEF. Io ho accettato, ho accettato con piacere, sono stata, come si dice, sollecitata da Claudia per partecipare a questo bellissimo evento e veramente ne sono orgogliosa perché qui in Valle Seriana UNICEF magari è un po' dietro le quinte. Questo è un modo anche per insegnare i bambini e spiegare a loro che cosa è l'UNICEF. E questo è un modo. Noi diamo dei palloncini poi alla partenza a questi bimbi, virtualmente ci saranno delle bandierine e io oggi dirò ai bambini che la corsa che loro faranno, la pedalata che loro faranno sarà pensando ai bambini siriani che in questo momento non hanno neppure le biciclette, tanto meno i palloncini e daremo un pensiero così virtuale attraverso questa pedalata a questi bambini meno fortunati. Mi permetto di presentare una persona che con molto cuore ha partecipato a questa iniziativa facendo delle mappe meravigliose che verranno usate dai bimbi, potranno essere colorate, quello l'abbiamo detto, ma la cosa più importante secondo me è che sono state tradotte in inglese, per cui abbiamo tanti turisti con la fortuna che qui atterra Ryanair e sicuramente i bambini ma anche i genitori avranno bisogno di sapere attraverso queste mappe come potranno effettuare questo percorso bellissimo della Valle Siriana. Io spero con l'aiuto di Claudia di distribuirne il più possibile per far sapere a tutti che meravigliosi posti possediamo e lui essendo di madrelingua ci ha tradotto in un inglese perfetto tutta la pista mettendoci un sacco di amore e lui si chiama Roberto Betti. Chiedo scusa sono un po' emozionato perché io non sono abituato a parlare di fronte alla telecamera, ringrazio tantissimo la signora Betti e Claudia per avermi dato questa occasione, sono molto molto felice di essere qua, spero che la mia mappa verrà distribuita, che i bambini potranno fruirla, colorarla e the most important thing I am going to say is that the map is in two languages and I hope that the children that are the future of this country and this nation will be able to speak this beautiful language and make a use of the map and be happy ride and make people understand that Italy is a beautiful place that we have to work to make it a better place. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Le iniziative culturali sul nostro territorio possono avere anfiteatri naturali di ineguagliabile bellezza. Il sistema bibliotecario Valle Seriana promuove un ciclo di appuntamenti denominato nel cuore della montagna con cui immergere le narrazioni nella geografia aerobica. In cammino con Davide Sapienza, scrittore geopoeta che cura per l'edizione bergamasca del Corriere della Sera la rubrica del venerdì Sentieri d'autore. Il primo cammino geopoetico in programma il prossimo 17 giugno tra Campos e Zenier nel territorio del comune di Rovetta. A giugno prende il via una iniziativa davvero particolare. Sì, il 17 giugno da Rovetta e concludendosi poi a fine settembre partirà nel cuore della montagna. Una rassegna di 11 cammini geopoetici voluti dal sistema bibliotecario Valle Seriana Rete Bibliotecaria Bergamasca sul cui sito poi troverete tutte le date e le biblioteche a cui rivolgersi per iscrivervi. Per me è un'esperienza nuova nel senso che se aggiungo quei circa 200 cammini letterari che ho fatto negli ultimi 15 anni non era mai capitato di elaborare una proposta tutta su un territorio da me conosciuto bene perché ci vivo e perché ne scrivo sul Corriere della Sera come questa. È quindi davvero una cosa inedita. Direi probabilmente non so quanti sistemi bibliotecari sul territorio nazionale abbiano fatto una cosa del genere. È molto impegnativa ma secondo me poter portare le persone a camminare, leggere il territorio, ascoltare delle letture dell'autore ma anche di altri autori che leggerò ma poi vivere anche delle esperienze all'interno del territorio, cercare di guardare tutto quello che connette la cultura, il paesaggio, la geomorfologia. È una cosa che personalmente mi ha dato sempre molta soddisfazione e che vorrei poter di nuovo condividere con tutte le persone che vorranno partecipare. Saranno a numero chiuso per ovvie ragioni e poi tutti i dati li si potrà appunto trovare come detto sul sito della rete bibliotecaria Bergamasca ma anche sul mio o sulla mia pagina Facebook. Ci occuperemo dei cammini geopoetici e di cultura in montagna con la puntata di Decoder in onda mercoledì sera alle ore 20 e 30 sul canale 88 di Antena 2. In studio interverranno oltre a Davide Sapienza, Daniele Carrara, sovrintendente delle servizie di polizia provinciale, Cristina Busin della società Alpes e Alessandra Mastrangelo del sistema bibliotecario Valle Seriana. Le repliche verranno proposte giovedì alle ore 14 e venerdì alle ore 23 e 30. E sono oltre 15.000 le persone che hanno preso parte alla dodicesima edizione della camminata neroazzurra. Vediamo il servizio di Elisa Cucchi. La dodicesima edizione della camminata neroazzurra è andata in scena nel centro di Bergamo domenica 3 giugno. Oltre 15.000 partecipanti che con la loro maglia neroazzurra hanno formato un lungo serpentone di persone, celebrando i club amici, ma soprattutto l'ennesima stagione esaltante dell'Atalanta. A dare il via alla non competitiva il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi con il presidente dei club amici dell'Atalanta Marino Lazzarini e il vice Roberto Serini. Oltre al testimonial da questa dodicesima camminata 2018 il bergamasco e atalantino Cristian Raimondi. Ripete quello che gli anni scorsi abbiamo avuto, mi sembra che anche quest'anno stiano probabilmente superando il record. Questo è per noi molto importante capire il nostro popolo quanto ama l'Atalanta, essere vicino all'Atalanta e questa è una festa per tutti quanti e noi dobbiamo solo che ringraziare questa fantastica partecipazione di questo pubblico che ama di sicuro l'Atalanta, però la realtà magari è un'altra. Noi diciamo abbiamo detto anche che ci dispiace nei confronti del Milan perché sul campo ha meritato loro, adesso non so come sarà il risultato finale, però noi siamo pronti a partire dal primo luglio. Certo, evitando i preliminari sarebbe meglio, però il mister è preparatissimo anche a questa realtà, noi dobbiamo considerare anche i preliminari e ci stiamo organizzando per quello. È tutto pronto sia per questa camminata neroazzurra, per questo fiume neroazzurro ma anche per il primo luglio in quel di Rovetta in Alta Valle Seriana dove ormai è un po' il vostro talismano questa location? Sì, non la cambieremo mai, quindi saremo presenti là, da primo luglio noi siamo pronti. Alanta, Marino Lazzarini, siamo arrivati alla dodicesima edizione di questa tanto attesa camminata, tantissimi collaboratori, volontari, insomma c'è dietro un gran lavoro però poi quando si arriva al fatidico giorno la soddisfazione è grande. Durante gli ultimi giorni c'è la voglia di dire che questo è l'ultimo perché la fatica e l'impegno è tanto. Poi quando ti ritrovi qui è chiaro dire che non si fa più è un problema, pertanto auguriamoci di poter continuare ma per questo abbiamo bisogno, giochiamo anche la moneta, vero Selini, anche qualche sponsor in più e i nostri volontari che ci sopportino ancora per molto tempo. Allora Marino devo dire che è un grande perché è lui il deus macchina di questa situazione e il ringraziamento va soprattutto a lui. Questi numeri, questi colori lo gratificano tanto. Lunga vita al nostro Presidente. Quest'anno si è scelto Cristian Raimondi come testimonia di questa camminata, il vero simbolo nero azzurro Bergamasco-Atalantino. Sì, anche perché è cresciuto nel nostro settore giovanile, è veramente il simbolo. L'anno scorso era stato Bellini, un altro grande testimonial e speriamo che il nostro settore continui ad andare avanti in questo modo. Cristian Raimondi testimonia di questa dodicesima camminata nero azzurra, insomma vedere questo fiume di persone. Sono oltre 15.000 indossare una maglia col proprio nome, deve essere un orgoglio. Sì, assolutamente, è motivo di orgoglio, qualcosa di buono vuol dire che è stato fatto, ma l'impegno è quello di fare ancora di meglio, sempre meglio. E da parte mia va un ringraziamento speciale a Marino Lazzarini e a tutti i club amici e gli organizzatori di questa manifestazione che hanno deciso di mettere la mia firma sulla loro maglietta. È sempre bello vedere tantissimi tifosi sfilare con i colori nero azzurri, tu che sei Bergamasco e Atalantino dentro. Ma sì, dai, rispecchia un po' l'amore sfrenato che ha questa città, questa tifoseria verso la propria squadra, insomma. È da sempre così ed è bello che da tradizione continui ad esserlo. Passiamo al calcio di casa nostra. Sabato vi abbiamo già parlato della promozione in eccellenza della Vertovese dopo la vittoria con il Casazza. Ecco le interviste e le immagini della partita. Dopo essersi imposta all'andata della finale playoff di promozione per due reti a uno, la Vertovese contro il Casazza vince anche il ritorno per 3 a 2 e vola per la prima volta nella storia in eccellenza. Vertovese che viene da un percorso straordinario nel playoff, percorso coronato in questa doppia sfida contro il Casazza in questa finale. Vertovese che ha dominato nel primo tempo, è andato sul 3 a 0, poi ha subito il ritorno della Casazza con due gol di Torri, ma la Vertovese ha comunque conservato il vantaggio fino alla fine e conquistando appunto la finale e il salto storico in eccellenza dalla parte opposta di Casazza che a questa finale è arrivato direttamente per aver vinto la Coppa Lombardia. Non è riuscito a oppure resistenza a una squadra che si è dimostrata nella doppia sfida superiore. Casazza che però avrà comunque la possibilità di essere ripescato in eccellenza in quanto è la prima squadra nella gradatoia dei ripescaggi. Mister Dodo Alberti, percorso straordinario nel playoff coronato oggi, la Vertovese per la prima volta nella sua storia vuole in eccellenza. Si, hai detto bene te, è stato un percorso veramente importante dove abbiamo dovuto affrontare partite una più difficile dell'altra, però per fortuna siamo arrivati in fondo a questo percorso direi bene con un'altra grande partita, soprattutto un primo tempo veramente importante dove i ragazzi hanno fatto molto molto bene, c'è dispiacere per aver preso quel gol lì così a fine primo tempo, però direi tutto sommato devo solo che fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente un cammino importante e a mio avviso sono arrivati in finale playoff meritatamente, vincendo questi playoff con merito. La prima ezz'ora non sembrava che a una data avesse vinto 2-1 la Vertovese, avete giocato come se si partisse dallo 0-0? Sì, guarda, quello che ho detto ai ragazzi è che io volevo vincere questa partita perché era quasi tre mesi che non vincevamo più in casa, quindi una squadra come questa qua non può permettersi di stare quasi tre mesi senza vincere in casa, quindi ci siamo posti come obiettivo di non guardare alla partita di andata ma cercare di vincerla in qualsiasi modo, pur anche magari rischiando qualcosina, andare contro tendenza, però l'obiettivo era proprio quello di cercare di vincere la partita e l'abbiamo centrato. Un'ultima domanda, chiaro, appena finita la finale, per il futuro cosa pensi? Guarda, non lo so, sinceramente il mio pensiero era rivolto oggi, per fortuna è andata bene, la Vertovese è andata in eccellenza, è un traguardo storico, sono veramente contento, l'importante era quello, dopo non ho la più pallidea di cosa farò, però ti ripeto, io pensavo solo alla partita di oggi perché avevo veramente molta paura di questa partita, è andata bene, l'obiettivo è stato raggiunto e quello che conta è questo, dopo il resto non conta tanto, diciamo, ti ripeto l'importante è che la Vertovese l'anno prossimo faccia il campionato di eccellenza. Zanandria Bortolotti, direttore sportivo della Vertovese, per la prima volta nella vostra storia si va in eccellenza. Per la Vertovese penso che sia una cosa importante, poi in mente nessuno più ci credeva, per quello che dico sono ancora qua anche oggi, purtroppo mi dispiace per qualcuno magari che preferiva altre cose, però purtroppo io sono fatto così, quando ci sono le cose giuste, i giocatori, Giorgio, tutti mi hanno aiutato, perciò questa è una cosa che deve rimanere perché nel calcio, solo con il lavoro, solo con la serietà, la squadra era così a dicembre, la squadra che eravamo costruito all'inizio dell'anno era così, abbiamo cambiato, abbiamo fatto, ci vuole voglia di lavorare e io sono ancora qua. Ci fermiamo per una pausa, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Continuiamo con la programmazione televisiva, questa sera sul canale 88 alle ore 20.30 trasmetteremo il programma musicale Colpa d'Alfredo, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.45 Agri Sapori e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda sul canale numero 218 alle ore 21.30, mentre alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a punta e nossa per parlarvi dell'incontro con Andrea Franzoso. Sul canale sportivo numero 628 alle 20.30 trasmetteremo la partita di calcio Vertovese-Casazza, mentre alle 22.30 la partita di calcio in replica Falco-Calusco. Ecco l'Almanacco per domani, martedì 5 giugno, il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 21.12. Il culmine è alle ore 13.19, la durata del giorno è di 15.46. La luna sorge alle 1.19 e tramonta alle 11.36, la fase lunare, la luna è calante, divisibile al 61%. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo. Ecco le previsioni del tempo per la giornata di martedì 5 giugno. Al mattino cielo poco nuvoloso, in seguito formazione di nubi cumuliformi che porteranno rovesci e temporali nel tardo pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.